Allora Dario si torna a scuola? Siamo ripetenti, ho le orecchie d'asino e in realtà sono con il bidello, diciamo Asti fa il bidello. E te fai lo studente ripetente? Faccio il ripetente e abbiamo messo su questa specie di un format, un mini festival lo chiamerei anche, una rassegna dove io vado a lezione di personaggi che fanno delle lezioni. Quindi non è mai troppo tardi per imparare? Esattamente, il titolo è non è mai troppo tardi perché faremo per gli spezzini che ne hanno voglia a settembre-ottobre, facciamo il 29 di settembre, la prima appuntamento lo facciamo alle 18. Con chi è? Con due giornalisti, di cui non ricordo il nome, so che uno è spezzino del Vigo. Certo, l'altro è Antonio Rossito, giornalista d'inchiesta di Panorama, vedi che il bidello aiuta il ripetente. Tutte perché è il mio membro interno, che ci fanno una lezione sul giornalismo con le mie domande riverenti, che è una specie di intervista che faccio a loro, ma loro mi parleranno di giornalismo. Questo lo facciamo alle 18, il 29, alla Mediateca. Poi alla sera... Alla Beghi. Alla Beghi, scusate, vedi che non mi ricordo niente da ripetente. Invece però alla sera, attenzione battaglione, c'è intervenite numerosi anche dalle altre parti, però all'IA... Alle 21? Alle 21 un incontro sull'arte. E chi è il mentore, chi è il nostro professore un po' capriccioso? È Vittorio Sgarbi. Quindi Sgarbi mi farà una lezione dei quadri esistenti dentro lì e a suo modo mi farà capire, farà capire a quelli del pubblico. Tra l'altro io faccio un po' una specie di pierino dietro un professore e raccolgo gli umori anche del pubblico. E poi c'è un altro appuntamento, il 3. Sì, ci spostiamo alla Mediateca, giusto? Esattamente, Mediateca, Mediateca Sergio Fregoso, sono molto affezionato. Piazza Brin, che Piazza Brin va in questo modo spronata e va rimessa sotto dei riflettori meravigliosi. A Mediateca abbiamo, al pomeriggio del 3 alle 17, abbiamo il nostro buon filosofo. Abbiamo un filosofo... Donà. Massimo Donà, che è un filosofo gezzista, insegna San Raffaele, personaggio incredibile. Poli fa tutto, insomma, di tutto. Eclettico, si dice. Non so se è proprio eclettico o finge di sapere le cose, perché ce lo scopriremo. E alla sera, un altro appuntamento con un personaggio famoso, visto da tutti senza che ve ne rendiate conto, quando guardate un film... Il Cinemania. Benissimo, quindi è Canova, è il critico d'arte Canova, che è sempre su Sky, che tra un film e l'altro, lo vedete con la sua barba, molto così, sempre con queste luci, un po'... questo speciale mentore televisivo, che è un insegnante, vice-rettore all'Ulma... Rettore all'Ulma. Rettore a Milano, e ci darà delle informazioni sul cinema. Quindi sono quattro incontri, quattro lezioni... Cinque protagonisti. Cinque protagonisti, un cazzaro che sono io. E il bidello che è. E naturalmente il preside del sindaco. Il preside del sindaco che ti ha rimandato a settembre. Mi ha rimandato e quindi con queste orecchie d'asino ci vediamo lì.